Duplice omicidio stradale. È per questa ipotesi di reato che la Procura della Repubblica di Agrigento, con il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella e il sostituto Gloria Andreoli, ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo di 42 anni di racalmuto che nella tarda mattinata di ieri era alla guida dell'Audi A3 che avrebbe tamponato la vettura a bordo della quale viaggiavano Giuseppe Nobile, 75 anni, di Favara e la compagna Calogera Stelle. 70 anni, entrambi morti carbonizzati a seguito del tragico incidente. Una tragedia che ha destato tanta commozione a Favara, città dove viveva la coppia di anziani. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 640, la Agrigento Caltanissetta, la cosiddetta strada degli scrittori, nei pressi del bivio di Favara. Giuseppe Nobile e Calogera Stelle viaggiavano su una Fiat Panda che per cause ancora in corso di accertamento, ad un certo punto è stata tamponata dall'Audi A3. A seguito dell'impatto, l'auto sulla quale viaggiava la coppia, dopo essersi ribaltata diverse volte, ha preso immediatamente fuoco. Per gli occupanti non c'è stata alcuna possibilità di scampo. I due anziani sono rimasti intrappolati nell'abitacolo e sono morti carbonizzati. Il conducente dell'Audi A3 ha riportato lievi ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri, vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì, il personale ANAS e gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due anziani.